Ed intanto cresce l'attesa per il decimo episodio di Caffon Street, le avventure di Mimmo e Stellario che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere ormai prossimo alla pubblicazione e potrebbe essere messo online proprio durante le prossime festività natalizie. Abbiamo chiesto ulteriori delucidazioni all'autore della serie, Marcello Crispino, che ci ha risposto Why amissadio, lasciatemi stare che hai a giugare a Playstation. Per cui non ci resta che attendere e zucarci un bel pruno. E passiamo adesso ad un'altra notizia. Da questa sera sarà possibile osservare ad occhio nudo il passaggio della cometa Ison C 2012 S1 sulla città di Messina Ma stai scialando questa patuna? A frivine non c'è qua a dare Non la mangiare assai? Non mi è venuto cagatuni? Sì però, la prossima volta la frivine a meno ci vuole Saranno quindi testimoni di uno spettacolo unico nella storia Ma che è da cosa? Vado a trovare! Oh male per mia, stai attento, leviti il doguo! Stellario! Stai vedendo da cosa? Sì Mimitsu, stai vado a trovare! Ma tu che hai in scuola? Ma chi è secondo te? E che cazzo ne faccio io, Mimmo? Se vuoi mi bocciarò Cosa vuoi a babbidio? Ma che vuoi fare? Mamma, pure io ce la voglio vedere la luce alla finestra Mimmi che la gramata nottata! 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 Grazie a tutti.